la macchia gialla si sta pianto 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 Non sai quanto tempo ci sarebbe da perdere con un attrezzo come il mio? Che spettacolo! Sono 80 anni per gli animali! Tutto mi fa sozzo l'asidore, attenzione! Grazie Guido! Grazie! Come è andata? È stata dura eh? Non riesce mai! Non riesce mai! Innamorati! Eccoli! 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 Secondo me queste qui lavorano al comune! Ma voi lavorate al comune? No! No perché mi dice Paduri, mi sembra signori che lavorano al comune! No, io lavoravo le foto! Ecco le foto! Sì! Anche! C'era anche quello! Ci sei provato! Ci sei provato! Arrivederci! Arrivederci! Nasconde la chiappe! Perché? Perché? Quando siete passati? Si è tagliato! 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 A gragnone! Grazie! 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 Una colazione! E ora si farà! Qua giù è! Pianta e roba! L'hai visto? Siamo pratici! Siamo pratici! Lo sai eh! Tutto a posto! Qua giù è completamente! E ora l'occa! Pianta! Pianta e dai! Puoi le ragioni! Pianta e ti andraui! Face-si! Le ragazzi! Che cosa faccio dopo giorni! C'è un piccolo indirifin Strange di Kulom! C'è un piccolo dal LQU musico! Un gozo! Ma ce l'hai già fatto quando siamo arrivati? Un altro momento un po' romanzo Vai, le corsa, le corsa, su Marzia, su! Su, su, le corsa! Sono neanche sudata! Ecco la mia mamma che è un coso! Che due volte sei passato? Questi sono matti, se sveglio la mattina alle sei Del calcio della casa Pia A lavorare ciò di su Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Ciao! Ciao! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!